Buongiorno a tutti, oggi è mercoledì 1 luglio e parliamo di analisi ciclica evoluta sul DAX e anche sul Fuzzinib. Le riflessioni fatte ieri spero che siano state illuminanti, ok? Per il fatto che abbiamo ancora da chiudere un team verso e guardando la non semplice struttura ciclica non vedo tantissime alternative a quello che può essere l'inverso stesso e quindi siamo arrivati a 15 barre su 22 minime di questo sesto T-3 inverso. Per cui, riguardiamocelo ancora insieme per sicurezza. Quarto T-3 inverso partito qui e che poteva aver già chiuso qui a 28 barre. Successivamente, 20 barre o veramente un po' troppo poco, qui chiusura no, qui chiusura estremamente difficile, non ci sono chiusure alternative. E soprattutto questo movimento spicca. Se qui volessero mettere persino un raccordo, fare partire da qua il quinto T-3 o altro, che però non abbiamo visto possibile perché qui parlo sempre di inverso, eh? Eravamo arrivati, no, qui sarebbe stato possibile, ok? Però se fosse partito da qui invece che da qui, cosa che non è, perché qui può essere eventualmente un raccordo inverso se non vogliamo agganciare questo livello al quarto T-3 inverso. Comunque non mi sento di fare centratura alternative. Questa è la centratura migliore che posso appunto tirare fuori. E dato che il senso T-3 inverso, che in questo momento ci dà il controllo, non è arrivato, come detto, se non a 15 barre, 16 barre, non può aver chiuso questo T-3 inverso. E quindi avremo ancora spinta per la giornata. Spinta verso l'altro, intendo. Anche perché ci sono altre ragioni. Allora, prima di tutto mi è stupito che dopo aver avuto dei future molto positivi, come al solito abbiamo fatto magheggi e in questo momento siamo a meno 41 punti. Ma meglio, se dopo 3 ore e 45 mi parte un secondo T-4 inverso, mi posiziono e valuto di nuovo un long. Anche perché non ci sono tante scappatoie, non ci sono tante alternative in questo caso. Deve comunque chiudere l'inverso. Che ha fatto inizialmente un 3 tempi, un T-1 a 3 tempi, fino a qua. E adesso ne ha fatto 1, 2 e manca il terzo movimento. Almeno il terzo movimento, poi ci potrebbe essere il quarto. Oggi, come dicevo nell'analisi di ieri sera, che suggerisco a tutti di andarsi ad ascoltare, segnalavo che avremmo aggiornato i massimi oggi. Saremmo avanti più sull'algoritmo. Ovviamente dopo l'apertura ci darà i riferimenti per la giornata di oggi, ci dirà dove possiamo spingerci. Per quanto riguarda l'indice, il nostro secondo T, per ora, partito da qua, è arrivato a 2, 3, 4, 5 giornalieri. Anche in questo caso non è semplicissima la lettura, non è un'equivo... differenza del caso. Perché se il quarto T-3 fosse partito qui, invece che qui, dall'esperienza sui mercati, che mi dice tante cose, teoricamente solo da qua dovrebbe essere partito il quarto T-3, non da qui. Sono però sempre pronto a ricredermi, perché i mercati, come detto, fanno quello che vogliono e non ascoltano certamente, come qualcuno pensava, i trader. Noi non abbiamo nessun potere sul mercato, sono gli HFT che decidono le sorti del mercato stesso, se si sale e se si scende. Quindi dovremmo già vedere anche se manteremo un'apertura negativa oppure no. Nel caso, ricordatevi che per partire un quarto T-3 inverso, un, scusate, un T-4, T-4 inverso, ha bisogno di un T-6 inverso da massimo a massimo. Un verso rialzista, per cui ribassista di indici. Questo è un dato molto importante. se vorrà far partire, appunto, un secondo T-4 inverso. Spostiamoci sul Fuzzinib. Differente il discorso relativo al Fuzzinib, che in questo momento perde comunque 60 punti di future. Diverso perché qui siamo indietro. Siamo arrivati al quinto T-3 inverso. E se avremmo chiuso su questo massimo qui, dovremmo fare perlomeno il minimo richiesto per far partire il sesto T-3 inverso e successivamente eventualmente muoverci a rialzo, esattamente come per quanto riguarda il T-1 inverso su DAX. Anche se in questo caso nulla vieta che ci sia un movimento differente. Qui è vero che abbiamo avuto sempre 1, 2 e 3. E adesso stiamo facendo 1, 2 e potenzialmente potremmo fare appunto 3. Un aggiornamento sempre di massimo. però siamo leggermente indietro come vedete. Il quinto T-3 non ha chiuso. Dall'altra parte siamo al sesto. E qui comunque per il T inverso sarebbe comunque sempre per una chiusura un sesto T-3 inverso ribassista inverso. Quindi ci sarà spinta verso l'alto. Altra cosa. Vi faccio vedere anche il grafico candele giornaliere che sto aggiornando in tempo reale tutti i giorni. Di nuovo il secondo T-2 non può aver chiuso qua come detto perché avrebbe chiuso a sole 21 barre su minimo 24 quindi impossibile e dovrà andare a chiudere probabilmente a partire dal 2 luglio in avanti. E quindi per chiudere un T-2 e poi un T-3 trimestrale abbiamo bisogno perlomeno di un T ribassista e quindi eccoci qua ecco il nostro T ribassista l'indiziato principale è questo e per essere ribassista dovremmo andare sotto i 18.878 quindi cosa scegliete Dax o Fuzzinibe per valutare i movimenti che ci aspettano a breve vi ringrazio per l'ascolto e se l'analisi vi è piaciuta mettete un bel like sottoscrivete il canale cliccate sulla campanella per avere tutti gli aggiornamenti è tutto gratuito per me sarà una splendida giornata e per voi grazie a tutti